Amici dei Custodio della Memoria, amici della Sardegna, un milione di turisti, un milione di presenze, record per quanto riguarda appunto la presenza dei turisti in Sardegna, evidentemente i post dei Custodio della Memoria hanno richiamato tantissimi turisti, scherzo eh? Un milione di turisti che aggiunti poi agli abitanti della Sardegna fanno due milioni di persone. In realtà dove sono adesso sono praticamente da solo, io e la mia famiglia, Monica, Adelaide e Rebecca, ci troviamo in territorio di Baunei e con molta gioia vi faccio vedere una delle cose più belle che abbia mai visto da quando faccio questi post archeologici. In territorio di Baunei è nota all'archeologia la Grotta delle Fatte, Sagrutta e Gianas. Ecco ragazzi, fantastica, questo posto indagato nei primi anni del 2000 dalla Fadda. Questo posto assume un'importanza straordinaria sia dal punto di vista geologico, ci troviamo praticamente all'interno di una grotta carsica, ma assumo un valore ancora più bello, un valore archeologico perché qui ci troviamo di fronte a delle incisioni spettacolari. Spettacolare è la parola che mi viene, ma aiutatemi voi, ce ne vorrebbero altre 700.000 di parole, bisognerebbe inventarle per descrivere esattamente quello che la Gegino sta riprendendo adesso e quello che stanno vedendo i miei occhi. Le incisioni petroglifi di Sagrotta e Gianas rendono praticamente orgoglioso il sardo. Il sardo è la storia della Sardegna. Ci troviamo in territorio di Baunei, come già detto, e quella è la favolosa piana che poi porta a Tortoli, fertilissima, ubertosa, come riportano un po' tutte le riviste. Abbiamo già detto che qua, nonostante ci siano milioni di persone in Sardegna, siamo soli. È davvero un peccato perché queste incisioni, questi petroglifi, sono a dir poco sensazionali. Ho anche timore a salirci sopra a questa roccia carbonatica che molto probabilmente ci troviamo in un contesto dove io sto camminando in una zona che forse prima era chiusa, ok? Perché, per esempio, qua ipotizzo che ci fosse una stalagmite, va bene. E niente, ragazzi, le incisioni si vedono alla grande, guardate qua, eccola qua, questa è l'inquadratura migliore, faremo anche delle foto. È bellissima, emozionante, questo corpo centrale da cui poi si diramano circa 18, 18, come possiamo chiamare, strade, 18 percorsi. Sono dei rituali magici, chissà. Rebecca, mia figlia, ha detto papà potrebbe essere la mappa di un villaggio, di un antico villaggio, il corpo centrale e poi le viuzze e le casette. Questa è stata l'interpretazione. Qualcuno dice una mappa stellare, qualcuno ancora ipotizza un qualcosa che ha a che fare con le rotte delle navi. E se comunque consideriamo gli studi che la Fadda ha fatto su questo luogo, comparandolo poi alle incisioni che ci sono nel Norditale, in Piemonte, nei suoi studi parla del Piemonte e della Liguria. Io sinceramente in Liguria non conosco niente, in Piemonte ho sentito parlare delle incisioni di rocciarelle. di corsa alla memoria. A proposito di rituali magici, è facile magari ipotizzare, non lo so, la colata di un liquido. Io adesso ho messo mezzo litro d'acqua ed è arrivata alle coppelle più vicine. Quindi ipotizzo che con molta più acqua, l'acqua stessa, il liquido stesso, che non necessariamente doveva essere acqua, poteva arrivare alle coppelle più lontano. Ebbene, ragazzi, siamo praticamente alla fine di questo video meraviglioso. Le incisioni qua di Baoney rendono davvero, come possiamo dire, orgoglioso chi viene qua a vederle, a trovarle. Una piccola parentese, la chiudo, non so se queste siano riferibili al Neolitico, il contesto nel quale appunto io sto divagando. Ecco, non lo so se queste sono più o meno recenti, ma il motivo più importante della grotta è questo. E allora, amici di corsa alla memoria, è un peccato. Mi sarebbe dispiaciuto molto vedere la ressa, fare la fila. Ok, no, l'estremo no, però non vedere nessuno in questi luoghi magici. Sicuramente adesso andrò al mare e sarà piena di gente. Ma farò pubblicità, darò i bigliettini da visita dei custodi della memoria, così tutti verranno qui a Baoney. E allora, riprendendo ancora la splendida cornice paesaggistica di tutta questa zona, io vi saluto e vi mando un abbraccio, cari amici dei custodi della memoria. Viva Baoney, viva la Sardegna, viva i custodi della memoria.